Sarà pronto e percorribile per la prossima estate il ponte di Cernera, lungo l'ex strada provinciale 41, crollato durante le alluvioni del 2003 e del 2005. Lo ha assicurato questa mattina il sindaco di Massafra, Martino Tamburrano. Ma credo che oggi rassicuriamo un po' tutti, il comitato, città, che il ponte sarà consegnato quest'estate. Quindi quest'estate potranno passare da quel ponte finalmente, dopo che l'amministrazione non ha perso nemmeno un giorno, anzi è anticipato come ben si può vedere, i lavori, i primi giorni del mese prossimo si varieranno addirittura le trave. Siccome avevamo una spada di Damocle che era il 15 di marzo, e allora abbiamo insieme con l'impresa, molto collaborativa dobbiamo dire, accelerato tutte quelle operazioni di scavo che potessero creare rumore, polvere, polveri eccetera. E quindi siamo arrivati al 15 di marzo con tutte queste lavorazioni già ultimate. Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del Tar che invece accoglieva la richiesta della società arrivata seconda in graduatoria nella giudicazione dei lavori. Il progetto prevede il superamento del solco della gravina per permettere il ripristino del traffico veicolare. Il ponte di Cernera, crollato durante le abbondanti piogge del 2003, era stato rinforzato ma non aveva retto alla successiva alluvione del 2005.